Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo, moltissimo. Due gemelli di meno di un anno salvati dopo aver trovato una donna senza vita nella loro casa. Questo caso ha scioccato la comunità e migliaia di persone nelle reti, fortunatamente due bambini sono riusciti a essere salvati da una situazione che li ha messi in pericolo nella loro casa. Sono una coppia di sorelle gemelle di età inferiore a uno, che sono state salvate dalla polizia della Florida dopo aver ricevuto una chiamata anonnima. La chiamata è arrivata dal 911 dall'appartamento in cui i gemelli sono stati salvati. Quando gli agenti sono arrivati all'appartamento del complesso Palmire Gardens North a Pompano Beach, in Florida, hanno trovato i due bambini vestiti di rosa vicino a una donna che è stata trovata morta. Fortunatamente le due ragazze non sono rimaste ferite, anche se ad oggi la donna e il suo rapporto con i gemelli non sono stati identificati, sebbene si presuma sia la loro madre. L'unità mobile di medicina legale è arrivata sul posto e ha rimosso la donna senza vita dall'appartamento. Quando gli agenti sono arrivati a casa hanno rimosso rapidamente i minori, che sono stati successivamente consegnati al Dipartimento per l'infanzia e le famiglie, secondo l'ufficio dello sceriffo di Brovard. Sebbene una breve indagine abbia dichiarato che c'era una relazione con la donna morta e i bambini, il legame esatto non è stato ancora specificato. La polizia sta ancora cercando prove nel caso. Secondo le dichiarazioni di alcuni vicini, le ragazze si vedevano frequentemente in zona con la loro madre e il suo fidanzato all'interno dell'appartamento, sebbene mantenessero sempre una posizione distante con il resto della comunità, a quanto pare si trattava di una famiglia abbastanza discreta. La morte della donna è indagata come un crimine, è stato anche dichiarato un incidente isolato. La casa è stata chiusa fino a quando non c'erano più prove. Ad oggi non sono stati effettuati arresti e non ci sono sospetti. Il dipartimento di polizia sollecita tutte le persone ad avere alcune informazioni, che, per quanto semplici possano sembrare, possono essere vitali per portare avanti le indagini. Si stima che i bambini abbiano meno di un anno. Sebbene non ci siano ulteriori dettagli su ciò che è accaduto all'interno dell'appartamento, i funzionari apprezzano che le ragazze siano al sicuro e completamente in salute. Speriamo che questo mistero possa essere risolto presto e che alcuni dettagli che hanno lasciato due gemelli sotto la protezione del Dipartimento per l'infanzia di Broward possano essere chiariti. Siamo solidali con queste bambine che hanno vissuto un momento così doloroso. Condividi questa notizia e invia le tue benedizioni in modo che possano andare avanti. Benedizioni Dizioni Dizioni Dizioni